Dall'intesa fra governo e sindacati del comparto scuola è trascorsa ormai una settimana, ma il tema continua a tenere banco nei social. C'è chi dichiara di apprezzare l'intesa e c'è chi invece accusa apertamente i sindacati di aver firmato un accordo farlocco. Forse per capirne qualcosa di più sarebbe però il caso di attendere almeno fino al prossimo lunedì 6 maggio quando i sindacati incontreranno il ministro per affrontare concretamente il problema del precariato. I sindacati chiedono che i precari con 36 mesi di servizio vengano assunti mediante un concorso riservato. Il governo su questo potrebbe anche essere disponibile ma bisognerà che si trovi la formula giusta per evitare che la magistratura amministrativa intervenga con sentenze contrarie alle procedure riservate. Più complicata appare la possibilità che si arrivi ad un chiarimento in tempi rapidi sul tema delle risorse contrattuali per cui per ora i sindacati devono fidarsi delle promesse fatte al momento della firma dell'intesa. Certo è che per il governo non sarà facile mettere insieme i soldi necessari per consentire davvero aumenti a tre cifre come annunciato e promesso da Bussetti. Ma il nodo più difficile da sciogliere è quello della regionalizzazione. Tanto è vero che lo stesso ministro dopo la firma dell'accordo non ha più fatto riferimento a questo argomento. Comunque in attesa di conoscere le proposte del governo CGL, Cisle, Will, Snals e Gilda hanno sospeso lo sciopero del 17 maggio che viceversa viene confermato dai sindacati di base. Vedremo nei prossimi giorni quando il governo scoprirà le carte se il pessimismo dei sindacati di base ha una sua ragione d'essere o se fanno bene i sindacati confederali, Snals e Gilda a tentare di ottenere qualche risultato concreto, approfittando anche del clima preelettorale che, come si sa da sempre, ammorbidisce le posizioni anche dei governi più irremovibili. Ovviamente noi continueremo a seguire questo argomento, quindi voi continuate a seguirci qui su questo canale e anche nel sito della nostra testata www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci e mandateci i vostri pareri e le vostre opinioni. Grazie. 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 Grazie.